Ben tornati con i nostri consuadi approfondimenti qui alla medicina regione Lazio dove quotidianamente incontriamo profili medico-scientifici quindi dei dottori, dei medici insieme ai quali ci interroghiamo in queste chiacchierate su temi riguardanti la loro branca medica, la loro materia oggi infatti parleremo di quello che è il diabete con tutte le conseguenze ma soprattutto i fattori scatenanti come l'insulino resistenza, i picchi glicemici, la glicemia o insomma un po' tutto quello che concerne, ripeto, il tema diabete. Con noi quindi a parlarcene a questi microfoni in questo appuntamento della medicina regione Lazio, biologo nutrizionista, il dottor Rinaldo Migliaccio. Salve dottore. Buongiorno a voi. Grazie per averci raggiunto in studio. Ecco prima di partire spieghiamo un attimino il ruolo di competenza del biologo nutrizionista da non confondere con dietista e dietologo. Sì, allora il dietista è affiancato a un medico quindi prescrive le diete sotto direttive di un medico invece il biologo nutrizionista può prescrivere le diete in libera autonomia ma non può prescrivere i farmaci invece il medico dietologo può oltre alle diete personalizzate può prescrivere i farmaci. Ottimo, bene, questo è già solo per comprendere un pochettino. Ecco, senta, addentriamoci in quello che è appunto il tema che la vede oggi ai nostri microfoni ovvero il diabete. Partiamo da lì. Di cosa parliamo, come si verifica e come ovviamente se ne può porre rimedio o comunque tenere sotto controllo. Allora, riassumendo brevemente, l'insulina è un ormone prodotto dalle cellule beta del pancreas che viene liberato alla fine di ogni singolo pasto nel sangue per permettere l'accesso del glucosio alle varie cellule dell'organismo. Non tutte le cellule dell'organismo però hanno bisogno di questo glucosio ma soprattutto il tessuto muscolare e il tessuto adiposo che rappresentano il 60% della massa corporea. Quindi l'insulina resistenza si ha quando le cellule hanno poca sensibilità all'insulina e non riescono ad assorbire il glucosio nelle cellule e rimane tutto nel circolo ematico. E si parla di iperinsulinemia, cioè grandi livelli di insulina nel sangue. Quindi diciamo dei pitti glicemici, la glicemia? Dei pitti glicemici, sì, si ha molto glucosio nel sangue. Perché appunto non viene assorbito e rimane diciamo così nei condotti? Nel circolo, sì, nel circolo. Ok, a tal proposito come possiamo rimediare? Allora, questo può portare appunto al diabete di tipo 2 che riguarda centinaia e milioni di persone nel mondo perché all'inizio si ha una glicemia alterata e quindi nel paziente si ha del benessere ancora ma non si sa che si sta avviando la predisposizione al diabete di tipo 2 infatti è consigliato una volta all'anno fare degli esami del sangue per controllare l'alterazione glicemica. Ok, ecco, spesso sappiamo che poi il diabete è anche ereditario, no? Sì, il diabete di tipo 2 è ereditario, il diabete di tipo 2 si verifica soprattutto sopra i 35 anni ma ultimamente anche vedendo negli USA si verifica anche nelle persone giovani perché si fa una cattiva alimentazione un'eccessiva e scorretta alimentazione e si consumano poche calorie con eccessivo uso anche di zuccheri ovviamente questo poi si fa uso di fast food, di mangiare possiamo dire che ad oggi appunto con tutto quello che è il cibo smart quindi fast food e tutto ciò che ne concerne questa grande ormai catena porta un po' a livello globale, proprio mondiale la popolazione in generale poi ovviamente magari negli USA dove ce ne sono di più e tutto questo nacque magari proprio come ideologia quello dei fast food fast food, mangiare coca-cora che contiene tantissimo zucchero fanno un momento eccessivo tutti i giorni non è sconsigliato però una volta al mese magari uno si può concedere questo fast food possiamo dirlo che lo zucchero quindi serve all'organismo o non serve affatto cioè se non lo assumessimo il glucosio il glucosio in pratica quando viene rilasciata l'insurina il glucosio appunto viene richiamato dalle cellule del tessuto muscolare e serve per riserva così quando noi facciamo attività fisica e studiamo questo zucchero viene mandato nell'organismo per darci la giusta carica quindi serve quindi è utile nell'organismo bene però ovviamente in quantitativi giusti diciamo i doni sì perché l'insurina viene rilasciata nel sangue quindi abbassa tutta la glicemia per portarla nel giusto range infatti il diabete di potuosi verifica quando la glicemia è alta e si cerca di abbassare la prima terapia è l'alimentazione un'alimentazione corretta è la giusta attività fisica bene ecco in conclusione possiamo dare delle linee guida per star comunque come dire salvo patologie particolari salvo situazioni particolari poter stare in un range diciamo di sicurezza allora come dicevo la prima terapia è un'alimentazione corretta cioè mangiare ecco per corretta però cosa intendiamo quello le chiediamo corretta mangiare le giuste quantità di macro e micronutrienti mangiare pasta per i diabeti mangiare pasta integrare con un indice cricemico basso e pare attività fisica ottimo beh già questo potrebbe bastare poi se questa terapia non basta si fa uso di farmaci via orare per bocca oppure anche sotto cutaneo volti ad abbassare appunto sì per abbassare la glicemia bene che dire dottor Migliaccio io la ringrazio veramente per l'intervento esaustivo ai nostri microfoni seppur di pochi minuti ma comunque ha dato modo di farci apprendere perché il diabete di tipo 2 può avere diverse complicanze anche a livello cardiovascolare che può compromettere il cuore il cervello la retina i reni e il pietre diabetico ottimo quindi ecco attenzione possiamo concludere con attenzione alla glicemia ragazzi nel ringraziare ripeto il dottor Rinaldo Migliaccio biologo nutrizionista se mi dà l'occhio dottore do tutte le referenze per contattarla sì sì va benissimo quindi risponde al 347 2623114 per presa appuntamento dopo di che raggiungerlo in via Miso 20 a Roma dove troviamo il suo studio nutrizionista rinaldo migliaccio.com sito web dot punto rinaldo migliaccio su instagram biologo nutrizionista dot rinaldo migliaccio su facebook ed infine rinaldo migliaccio chiacciola iol.it la mail di contatto del dottor migliaccio che ringrazio per l'intervento grazie a voi e grazie anche a voi che ci avete seguito e continuate a farlo con i nostri appuntamenti alla medicina regione Lazio per oggi è tutto alla prossima grazie ancora